Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia della nuova stagione, della 23-24, la seconda maglia del Palmeiras, in edizione FAN. La nuova stagione, la nuova stagione. Veramente niente male. Nella mia classifica questa prende 3 stelle. Bellissimo il tessuto, su questo non c'è niente da dire, bella e particolare questa rifinitura in verde sul davanti. Il costo come al solito lo vedete qui sopra, molto basso, peraltro, vi ricordo, include anche le spese di spedizione. In descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere perché c'è anche un coupon che potete utilizzare per ottenere uno sconto del 10%. Prima di lasciarvi la parte finale, mi raccomando, lasciate un grande like e iscrivetevi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima. Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN.